Questi geni alieni sono più intelligenti di qualunque umano che sa a che gioco stanno giocando con noi. Oh, non buttarlo via, posso venderlo su e-mail. All'interno c'è un buco grigio instabile. Tu sei un buco grigio instabile. Che bella. Questo dimostra che tutto il vicinato ci odia. Ragazzi, volete dei biscotti di alburgo? Ci sta minacciando. Saremo anche intrappolati in questo mondo che è sull'orlo dell'estinzione di massa, infestato da una specie che distrugge l'ambiente, ma quantomeno stiamo insieme. Che schifo! Che mi sono perso? Perché dissezionate la vostra compagna di classe? Si è comportata male con noi a scuola. Mi pesterò di brutto. Piccolo, Nicky, dobbiamo prendere a calci. Cavolo, la fa diventare davvero più ottusa. Da Justin Roiland. Co-creature di Rick e Morty. Che facciamo? Così piaceremo alla gente. Con gli omaggi di Corvo. Oh, mio Dio. Ho di nuovo le gambe. Cavolo, è un po' complicato controllarle. Non c'è di che. Solo Ropposites. Serie originale star in esclusiva dal 23 febbraio su Disney+. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. Blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!